Grazie Grazie Dai fama Dai ciccio Ciao 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 Bene Dai che ce va a fare Con la tua Non hai coraggio di salire Non hai coraggio di salire Il cane Non potevo tagliarlo di più Forse un po' al tiro Un pelo alto Ma giusto Un pelo Come si chiama il tuo cane Leone Ciao Leone Quindi ogni volta diciamo forza Leone si girerà anche il cane Marghe Ah tu hai la stile zicola Salta ciccio Salta ciccio Salta ciccio 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 No dietro puttoso Va bene va bene dai raga Oggi giochiamo a due punte Parano Ciccio 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 Ii giochiamo che Unacce Unacce 3-5-2 giocchiano, è il nostro modo che mi piace di più nell'angolo. 3-5-2 è il modo migliore. 3-5-2 giocchiano, è un po' più lunghezza. Cosa? L'erba? Forse è meglio così perché se la tagliavano venivano fuori le buste. No, infatti, infatti. Dici? Sì. E sarà proprio quello, infatti, solamente un po' più morbido. Guarda, guarda il cazzo. Oh, oh! Eh, fanno, eh. Comunque se vuoi dire 3-5-2 mi piace come modulo migliore. Cosa dici e te, Luciano? 3-5-2. Sì. Buono. Oh, io giocano tutti e due i tuoi figli, eh. Eh, non è giusto. Non c'è parte della squadra. Non c'è parte della squadra, non c'è parte della squadra. Non c'è parte dei tre due i tuoi genitori. Vieni, vieni, vieni. Vai, 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 vai. E vai, è perciò? Va, non c'è parte. Non c'è sp Raw. È un cano buono, bene da queste due due. Se vedrete bene. È vero, le due. va bene, va bene va bene ragazzi, giochiamo subito bene così non giochere subito bene, tirare, segnalare non giochere subito dopo di lui, dai grazie andrei, vieni in mezzo, grazie a scala, Manu prima, prima rama, dai raga, dai raga bravo Pietro, vieni, 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 vieni vieni, 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 vieni oh, Nico qua non è arrivato molto vicino alla retta è vero spazioso il campo, molto vicino alla retta ciao 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 Marco, tu bene? 0-0 iniziamo, ciao ciao vai raga, sveglia bravi, bravi raga, bravi bravo Roby, va bene, vieni, vieni a recuperare qua ok sei chef, guitar, domani, vieni, 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 vieni gebio raga, loングhi, bialoo buongi, vieni, vieni. vieni, 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 vieni quale stro conference, vieni, vieni no vieni, 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 vuoi vieni, 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 vieni domenica può entrare anche forse al secondo tempo ha bisogno, speriamo che non ci sia bisogno il campo è largo se non ci dà il baluno probabilmente non lo so gioca dai raga su metti su solo solo brava 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 non è stato sentato i figli? non è stato sentato i figli? Se può, nel 8 minuti, certo. Dai, cadiamo bene, ragazzi. Vanno bene, sì. Devono svegliare il 100 mila. Dai, ragazzi. Dai, Leone. Dormiamo, cazzo, oggi. Non deve essere doppiato bene. Poi il risultato... Non è giocato bene se ti servono. Dai. Vieni fuori, vieni fuori. Vieni fuori, vieni fuori. Vieni fuori, vieni fuori. Almeno chiudere quinte. Lo so che non serve proprio da... Beh. Era importante. Dai, dammi la mano più forte. Una linea, ragazzi. Guardiare anche un numero di otti. 5, 9 sul secondo. Attaccati, raga. No, la linea, ragazzi. Porca puttana. Bravo, Pava. Bravo, Chava. Bella difesa qua. Minca, ragazzi. Stiamo subendo. Non dovremo prendere le mani a situazioni. Non dovremo prendere le mani a situazioni. Ciccio bene eh? Con il corpo Ciccio attaccato. Non te l'hai attaccato! No! Dai Musa! Aspetta! Vai, vai, vai! Salza, salza, salza! Dai, dai! Non va bene, dai! Più precisi! Non è stato più precisi anche, dai! Facciamo fatico, ora il campo! Oh, ci vede un... Non so... No! Non è pervenuta! Dai Gio! Dai! Però sai... Non lo so, come se c'è un tipo a controllare... Si! E' un po' difficile controllarla eh? Sì, è abbastanza lunga eh! Mettalo! Guarda no! Non so... Non so... E' 3-5-2, il modulo... sono abituato a giocare... Ma il campo... Dai! 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 Poi ma caccia! Senti! Eh, si sente... Cioè... Tiene le due punte... Tiene le due punte... Tiene le due punte... Rapido! Dai, Leone, diamo! Oh... Oh... Vai! Malissimo! Ma il suo... Anderò a me! Arre! Ma il suo... 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 Cioè... Bravo Pied! Bravo Pied! Ma era un palla! Va bene Pied! È buona! Non so! Si, va bene! Eh cavalli, cavalli largo... Bravo Pied! Che è la linea eh... Vabbè... 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 Come è raga? Come è? Non un passo con me... E tre... C'è una due... 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 Cazzo! Vabbè... Vabbè... Non dobbiamo stare a livello... Allora... Vai da solo! Vabbè... Vai da solo! Vai da solo! Vediamo un po' a livello... Vabbè... C'è una due... C'è una due... Vabbè... Troppa fatica... Dai raga... Dai... Come si? Tira... Vabbè... Vabbè... Non aveva senso la parola... Non potevo pensare... Arriva! Dai... Vabbè... 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 Ma non è un'altra volta per il club, per il fai delzino si vede. E' un'altra volta, non è un'altra volta. Roby va bene, Roby va bene, Roby! Alzzare la nina di Gio, ho ragione, mi piaceva il titolo da supportere di alzzare la nina di Gio. Il punto di vista di prospettiva è perfetto. Il punto di vista di prospettiva è perfetto. Va bene. È anche Casartelli adesso in panchina per evitare di essere ammuniti per domenica prossima. Se la guarda, secondo me, se la continua a procedire, la mette dentro una spuntura. E' una meglia mollita qui. Dai raga, dai raga, andiamo, andiamo! Dai, dai, dai! Dai, dai! Noi diamo lungo, dai! Noi diamo lungo! Dai, avanti la palla! Gio, gio, gio! Gio, gio! Gio, gio! Gio, gio! Le linea, le linea! Cosa? Ci ha fatto di carnalo? Grazie, presti, presti, non fai di più! Bravo Mirko! Alza! Bravo Mirko! Bravo Mirko! Bravo Mirko! Bravo Mirko! Dai ragazzi, dai ragazzi! Andiamo! Cazzo, siamo poco al centrocampo! È un complesso, manca quella... Mi ha fatto giocare un po' di più, cioè stiamo parlando una doppia pelle, dai! Bello, bello! Nooo, va bene! È fuori gioco. Si può essere, appena un po' di più. Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Guarda... Guarda, guarda, guarda! Anche l'altro è in difesa piccolino... Sì, Pietro. Quello dice lui? No, quello basso un po' stampiato, un po' puretto. Sì, quel ragazzo lì? No, quello che ha giocato domenica, c'erano i più piccolini, tutti. Ah, Muzzano. Non sbaglio. Non c'è però. Oh, Giallo! Non sai perché secondo me? Per rifiutare. Sì, ho fatto una per rifiutare. Ti ha dato una giornata? Sì, per la somma di munizione. Eh no, sennò sì, sennò c'era. Purtroppo, per rifiutare è stato espreso. Un po' non gioco. Sennò giocavo di cento dalle, magari io e Sinestro. Sarà, mi... Inizia le cost online, Vieni la Iaco, vieni la Iaco! Vieni la Iaco! dai però raga c'è troppo vieni corrizia raga rapi strigi e girati rapi strigi e girati manu arriva vai 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 segui ciccio bravo 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 rama scarica arriva 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 tacco macchino tacco macchino tacco macchino tacco macchino tacco ah si vede tacco 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 raga bravo cioè abituati su sintetico che non c'entra niente dai cava fatti sentire anche tu dai in più c'è anche l'erba è perciò 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 cambia totalmente il ribalzo perciò perciò che ho visto non l'aveva forza non l'aveva forza si è vero che non passa bai dai 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 bravo bravo buonissimo fuori 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 oh no guarda dai non c'è da fare c'è l'antilaccio è vero ci hai sentito anche l'altro però questo è netto da me è merda giusto è giusto è giusto averlo chiamato era netto quella c'era anche l'altro c'era anche l'altro dai fio fatti sentire di più va bene dai dai ragazzi show show dai 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 tagliamolo la palla comunque davvero pochi tiri stanno facendo troppo pochi tiri ci sono troppi pochi tiri ci sono passati i 22 minuti pochi tiri pochi tiri che bellissime azioni ma che non è davvero davide vai in mezzo davide che cazzo io non lo so cazzo lì pochi non so perché ha voluto occhettirare però ha provato ha provato si dai ci sta se gli scappare per tutto giusto ci postavano in mente ssh sono molto ottene le propracce diventa un po' di più alu col colpo non con le mani ma è Pipo il pantino che è Pipo si si dai leone diamo diamo vieni la vieni la vieni la non funziona se continuiamo così mettere la torta ah ce l'abbiamo ah ce l'abbiamo è un po' di meno è un po' di meno è un po' di meno è anche fuori gioco no no in teoria è fiorita in teoria ce l'abbiamo non so se lo metto in teoria si ma solo 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 bravo bravo bella 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 bravo Edo attacchiamolo qua dai 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 prendiamola bravo Ciccio dai dai ode ode faccio a dirlo dai 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 niños Siamo qui ragazzi, non vanno! Norca dai, ma non ci crediamo! Bravo Fio! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Sali, sali, sali! Vieni qua! Cazzo è il trello di guardata! Tira a bambini! Arriva! Vieni qua! Vieni qua! Bella, bella! Vieni qua! Vai su, aiutaci! Raffaele, tu aspetta! Va bene dai! Non è riuscito a prendere te HEY! Va bene ragazzi, chiudiamo un po' di più! Fai... Ma dai! Mi tirare un po' di più. Mi facciamo po' di tir. Ragazzi facciamo po' di tir. Facciamo po' di passione. Trovo po' di tir oggi. Non so perché. Ti so che ti diamo un sacco. Magari sbagliamo un po'. Ragiano! Ragiano! No! Dai Ab! C'è quel che spazio? Aspenete, siamo. Ma che piga? Non è proprio... Ma che hai dato Giallo per le proteste? Ma è venuto a protestare. Basta, basta, dai! Ti ha mai visto io anche un amico che ti toglie la munizione? Ma non è capitato mai. Andiamo ad escesi! Dai, venia! Non pensiamo che sia possibile, sinceramente. No, stiamo giocchiando l'esperato. Magari ne potreste credere che l'abbiamo cancellato dopo. Sì, ma un pochissimo. È radissimo. Sì, se lo spiega, cancellano. È radissimo. Vieni, 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 vieni! Mani! Chiara, che bello è le braccia! Guardi! Ah, ecco! Vieni, dai, raga! Bravo, vieni, vieni! Andiamo più corti! Andiamo più corti! Andiamo! Basta! Basta lì, basta lì! Saltiamo noi! Basta lì! Bello tìì! Vieni, dai! Basta, puttana! Devi saltare, Marti! Devi saltare! Un anzo cazzo mare! Andiamo! 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 Davide! Davide! Vieni davanti! Vieni davanti! Vieni davanti! Vieni davanti! Vieni due! Andiamo, andiamo! Ego! bravo rama bravo Ale porca puccia si bravo raga più cattivi dai raga non c'è oggi è l'ultimo questo ardione dobbiamo tirare di più da inizio partita se non tiriamo di più possiamo ancora vincere ha fatto un bellissimo tiro ha fatto un bellissimo tiro ha messo all'incrocio con parabbia il tiro ha fatto il tosto bello ho pensato se entra è finito è bisogno che donna aspetta che si alza lui che cazzo vuoi aspetta che si alza lui non ti preoccupare che non faccio queste cose che si non ti preoccupare non ti preoccupare che non faccio queste cose che si dai 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 non ti preoccupare si nel senso voleva che sono i grossi compagni eh dai dai eccoci comunque hanno fatto due azioni loro ecco eh si noi abbiamo fatto pochi tiro e questa è la differenza di oggi temporeggia temporeggia io non mi sento di dare la colpa a qualcuno per i gol io non do la colpa a nessuno per i gol devo tirare un po' di più bravo bravo dai raga non mi sento di dare la colpa a sulle coppola non mi sento di dare un po' di più vai a più gioconare vai a più gioconare vado un bellissimo tiro inserabile tutti tre secondi arriviamo cazzo guardiamo il pallone porca puttana hanno tirato un tiro da varro però cazzo non vogliamo guardiamo il tuo squadra eh stiamo facendo fatica noi no cazzo guarda vado guarda vado no cazzo no no ma doveva alzare di verde se non cazzo dai ragazzi ancora lunga possiamo ancora recuperare vince dai su raga su vieni qua adesso quella manca un quarto d'ora tre dieci minuti un quarto d'ora un quarto d'ora no ecco facciamo un gol nel primo tempo andiamo avanti Andiamo a fare un gol adesso, cioè in questo arco di tempo, prima che fischi prima te. Non vorrei dire che ne faremo due nel secondo tempo, dai. Non ce nemmeno le prospettive. Purtroppo no. A meno che non cambi il modulo, metti il rischio. Cambiare il modulo, mettere Ciccio la marca più avanti. Bella, bella, bella. Dai, dai. Dai. Qui che fa fatica qua. Dai Leone, dai Leone. Bravo Ciccio, dai. Dai Leone. Comunque... Molta fatica. Molta fatica perché è terreno, se no Lili era andato via. E' quello il motivo, secondo me. Secondo me è quello il motivo. No, eravamo già a 2-3-0, a 1-1. Sì, guarda, ti dicevo, non c'è la storia, non c'è la storia. Sono sicurissime di qua. Sì, guarda. Ma sotto, lo so, ti dicevo. Si. Guarda, vedi. Ho tenuto qua. Guarda, vedi? Poi ovvio? Guarda, vedi. Guarda, vedi? Guarda che vedi, guarda, vedi? Mi dispiace che stanno proprio facendo fatica in attacco, non è una colpa di nessuno per i gol, ha fatto morire una cosa. E' che non riusciamo a tirare, non so perché per il campo. Mi è tutto difficile comprendere questo. Bello Dio! Celelele! Bravi! Dai! Dai Oles, sono cattivi! Bene ragazzi, va bene, siamo orientati in gioco. Siamo orientati in gioco, dai! Dai ancora ragazzi! Ragazzi più cattivi però! Poi hai visto il tiro è andato benissimo, facciamo fatica. Facciamo fatica! Guardiamoci ragazzi, dai! Da vincere, da vincere! Dai ragazzi, dai Leone, crediamoci! Perché se no oggi è... Siamo in gioco, siamo in gioco. Siamo uno pari, siamo in gioco. Così dai! Siamo uno pari ma siamo in gioco, sono contento. Eh 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 eh! Bravi raga! Netto! Io davanti sulla linea e volevo pure un po' di gioco. Per fortuna la tenevo in campo due. Sì 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 sì. Sì 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 sì. Sì 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 sì. Va bene eh! Beh se se creiamo altre azioni... Beh a me non interessa il bel gioco. Ma che... Ma che... Allora hanno fatto un gol della miseria... bravo che io ragazzi saliamo saliamo raga dai che pareggio come al solito abbiamo fatti 200.000 ma sai come l'abbiamo fatto a segnare il ruolo perché ciccio è salito più avanti ed ha aiutato le due punte è fatto segnare ha avuto una bellissima attenzione fai così quindi direi anche un grosso merito ciccio guarda che jacopo dai stiamo organizzati meglio vedo vedi che sale un po di pinto testa raga riscono sempre hai dato disposizione salire vedo gli altri due dentro dove funziona meglio adesso bravi attenzione bravo Ale bravo Ale prendila bravo bravo Lucane va bene va bene guarda 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 se ingraniamo non c'è niente eh devo ingranare se ingraniamo non c'è niente troppo andiamo a capire il campo quello lì che ci frena non ci sono altre cose con questa stiamo andando bene stiamo tirando un po' poco e adesso sta migliorando vedo come fare troppo pesce guardiamo guardiamo anche se il terreno su si vieni ancora dai fa va eh bisogna giocare anche sulle golvi degli altri da questo campo buttaglielo dove c'è nessuno sulle golvi degli altri dai è veloce li no non no tempo e terra speriamo si sente che guarda quando atterra bello orca si era fermato convinto che non gli andavano più facciamo si 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 Non mi ricordo cosa avevano fatto l'andare. Ah no, una fai. Dai! Non doffa molto il piede per l'acqua. Bravo Ciccio, va bene. Dai fuori fuori. Dai raga, dai. Non cambia niente Papa, dai. Dai raga, dai. Oh Gea, le palle alte, occhio. Il petto. Dietro, dietro. Come fai? La doppia, la rapi. Brava rapi. Non ecco qua, ama eh. Su, su, su. Dai, 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 dai. Oh, vabbè dai, dai, dai dai. Dai, dai, dai. Raga deve uscire uno su quello eh! Stiamo attenti che... Raga non può tirare eh! Però tirando fuori! E' bene, come si è visto. Perché hanno fatto il go down medico? No. Si però noi dobbiamo portare... Fio non deve tirare lì eh! Non voglio dell'ennesimo pareggio, mette la salice. Pareggio è come una sconfitta eh! Si è un punto, si cambia il focus. Diciamola bene, come proprio Concezioni. Dai! Questo in generale è tutto il campione. Non c'è, vai Cicci, vai! Non c'è, Cicci! Non c'è, Cicci! Segui, segui, segui Fabà! Bravo Fabà! Che troia! Vai dai, ancora Fio, ancora, ancora, ancora! E c'è... E l'enica! E' l'enica con ci sono? E' l'enica! E' l'enica! Vado a cambiare moda. Bravo, bello, bello. Bravo, bello, bello. Bravo, bello, bello. Bravo, bello. Bravo, bello, bello. Bravo, bello, bello. Bravo, bello, bello. Dai, dietro, cava. E cazzo marchiamo. Fuori, fuori. Bravo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. ma cosa fa? si, guarda, staccato bene, bene bene, bene 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 dai 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 però sai che non lo so nel senso qui si giocano vai vai Rama vai Rama, spingi vai ho perso il tempo bravo bravo Manu bravissimo Manu due, bravo 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 due meglio adesso girarsi alza meglio adesso dai sempre detto 4x2 in modo che non procede dai dai sopra Edu sopra segui Mirko dai vieni 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 Vieni, l'unico, l'unico! Vieni, l'unico! Ah, ecco! Bene, bene, dai ragazzi! Subito, via, vale! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Dai, 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 dai! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Hop, hop, hop! Bravo, Maxi! Il secondo, raga! Vieni, vieni, vieni! E' da solo, raga! Oh, raga! L'ora! Vieni, vieni! Grazie, ti auguri! Cazzo, bello! Solo, solo! Oh, bravi! Vieni, vieni! Bene, grazie! Sì, Davide! Sì, tu a provare! Ma forse una da reti di città? Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! No前, vieni! Non so quanto,venga! Tu sei benvenuta? Ma Laura è fuori altro. Beh… Mi dispiace, grave! La pianta, si fatta male? Ma è una roba grave che non si muove, no? Però sul divano non si muove. Si, si fa male. Il? Niccolò. Si. Bene, fida. Che bella roba gli ha dato! Bravo! Finchia! Davide, dai profondità! Davide! Stiamo prestando meglio, in realtà. Si, intanto... E basta. Bravo, Cava! Bravo! Bravo, Mazzi! È una squadra rognosa, ragazzi. Ma sono il terzo ultimo. Eh? Ciao, Quicco, ma come va? Ma non ce n'è, sì. Tutto bene, grazie. Allora, siamo... Adesso ho appena iniziato il secondo tempo, siamo uno pari. Ho fatto un gol Jacopo Lamacchia. Sì. Il campo è... Pesante. Eh, siamo andati prima sotto, perché il campo è un po' di erba alta, un po' pesante. E secondo me facciamo un po' fatica nella fase offensiva a creare occasioni. Da visto. Ma abbiamo avuto... Eh, si fa un po' fatica. Si fa un po' fatica. Si fa un po' di erba alta. Un po' di erba... Eh, no. Sì, più o meno sì, si fa un po' fatica. Perché l'erba è un po' alta e sicuramente facciamo fatica. Però... Stiamo giocando adesso meglio. Vedi il pallone. Non riesco a controllarlo. Rischiamo anche di... Certo, certo. Va bene. Va bene. Vitale ragazzi! No, ha lasciato le chiami attaccate nel trattone, no? Ovviamente per fare un ruolo che non è... Allora, visto che l'avevamo cambiato, abbiamo tenuto quello vecchio. Ma che maltesa. Due viti. Sì, non va bene. 30 secondi! Andiamo! Quei falli non vanno. Per il tuo non andava da nessuna parte. Sì, non va bene. Ma non va bene, non va bene. Ma non va bene. Sì, ma c'è una punizione? No, c'è una punizione. Non 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 è sembrava più meglio. Ma almeno poi si vede bene. Perché domenica scorsa, che eravamo dietro la porta, si vede bene? Eh, lì era un casino. Però sono venute bene le riprese. Perché stando in piedi... Mi venuteo più bene. Invece non... Però la persettiva non mi piace. Manu, Manu, dopo qua, Manu. Seguirei me del gioco. Bravo Ciccio! No, ma perché non ci ha creduto? Bravo Ciccio! Cazzo, gli ha dato il passaggio ma non ci ha creduto, cazzo. Non ci credo. Comunque hai ragione Chico. Se il campo è difficile... Ma il TG deve finire questa cosa? Si sta riprendendo. O la sostituisce? No, è ancora... Mezzo inforbonante. Diciamo, può giocare, ma preferisce aspettare come farsi male. Ma magari entra qualche minuto, ecco. Va bene, ma tanto. Siamo recuperati al 35%, al 90%. Ma cazzo, ma... Ma che mezzo? No. No! Dai, dai, accompagna, rama! Mettiti il corpo davanti! Se lui deve tenere la lampella di più, forse non se la sentiva, dai. Che bravo, bravo! Bravo! Bravo Pippo, bravo Ia, dai! Perché non era facile tirarla, eh? Ecco, perché il gol... Maltega. Un altro gol che fa lui. Mirko! Vai, di più, di più! Chi esce? Anzi. Sì. Sì. Entra, Malto. Sì. Eh, c'è più orico, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. È tempo, magari, sì. Già che c'è il trucco? Non lo so. Dai, Malto! Vabbè, la sonda sì, là ci sono difensori che non possono creci. Sì, la mette 180. Ma non c'è, la giocavola stagione. Bravo! Sono, sono! Anche se io proprio pesco uno di pinza. Dai, 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 dai! L'erba, l'ha tagliato l'erba, non il pallone, cazzo, ragazzi, dai! Chi c'erra? Chi c'erra? Chi c'erra? Chi c'erra! Chi c'erra! Chi c'erra? Ma va bene. Se non due campi, ma due difensori. Mi start qu... Alla che cosa! Sì, ci sarebbe quello del Mignore, se volerò magari... Ma non c'è nessuno... Saliamo raga! Se volerò magari non si chiude... Dai, la mela, andiamo calma! Ci sarebbe quello del Mignore che ho fatto tanti giorni... Bello cazzo, bello! Uh, bello Yaa, dai, bravo Yaa! Bravo, bello anche se era durissimo da segnare da là... Sì, sì... Era quasi impossibile... Da lì è difficile che... Però va bene, solo l'azione meritava... Dai Pipetto, dai! Ho fatto come quello dell'Albania dopo trenta secondi... Eh... Non l'ho visto, però... Come hai visto? Però abbiamo vinto, ma... Luka! Dai, vabbè! Dai, vabbè! Ancora lì, ancora lì, ancora lì! Dai, vabbè! Vai, vai, che va fuori! Dai, vabbè, vabbè! Dai, vabbè! Oh, girati, raga! Girati! Ci sono, arriva, 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 arriva! Vai insieme, raga! Un passo dietro! Un passo dietro! Un passo dietro! Facchia puta, puta! Testa, testa! Testa, testa! Solo! Tutta tipo, tutta tipo! Non cambia la tua mano! Ciao, figlio! Dai, avè, dai, avè! Va bene, eh? Vai, avè! Gira, gira, gira! Vabbè, vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Secondo me, già si mette a casa al tele, a scherzi di appena. Vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè! Sì, ho paura che prenda la munizione per domani. Bravo, ciccio! Come è là? Come è là? Come è là? Come è là? Vabbè, la prendete? Ripetto, l'otto! Uno delle due punte sull'otto ogni tanto, raga! È indeciso, è mista. È vero che è il pensieroso, mista. Bravo Ale, mamma mia. Bene, un miso. Attaccano più questi due? Sì. Facciamo fatica. Bene, inizio per attirle. Bene, inizio per attirle. Bene, attacca questa macina. Non siamo più piuttosto in questi campi. È pesante. Non è un bel tempo che ci vediamo. Però... Dove parte l'arco? Quattro due. Posso fai iniziare a la trattiante? Ringe? Cosa, teno sempre fuori. Vai, mano. Dai raga, dai pamiclo! è rognosa oggi si molto non ci vengono quei passaggi sono bloccati in attacco non so perché avrei il campo non so se riuscite a fare un gol facciamo una seconda non so se non mi faccio non so se non mi faccio si chiude uno di fronte in difesa braccia larghe non so se non è Raga, raga, qui, raga, ui! Non sto scendendo, forse è attaccante, dai, metti, mi stai scendendo. Robi! 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 Stiamo male in campo a difendere? Vedo l'arte c'è solo un alto lì. Vedo l'arte c'è solo un altro lì. Va bene tutto, vabbè! La testa, la testa! Eh? 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 Dai ragazzi! Siamo dentro! Botta! Sì! Raga! Ma come cazzo l'ha tirata indietro? Eh, dai dai dai! Si era peggio si, fa un piatto un po' grande seminario Cosa stai Francesco? Sembra anche di tutta Ma abbiamo preso tre munizioni qua da... Tutto è così... Un blocchiato, un blocchiato Sono davanti, mi sta chiedendo un blocchi! Vicino Rama, dai dai! Oh! Cazzo minca! Porca puttana! Niente, non se lo dice perché non l'ha morito, perché non si ricorda chi era Loro ha detto che lui è di merda Non sapeva chi cazzo doveva morire Sì Ale, sì Ale! Vicino! E' scaldare anche Marco! Via, via, via! Dai, dai, dai! Non mi rischia, ti metti un giallo Senti, la fai il piatto il mio giallo Se sei più bravo da stare, non riesci nel numero Minchia! Bravo! Bravo Pippo! Alza! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, edo! Dai, dai Luca! Dai Luca! Forza Leone! Prendela, raga! Sì Pippo! Se mi diceva! No, 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 no! Vai, 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 vai! Non mi diceva! Andiamo! Bravo, bravo! Sfresì! Due! Due! Prendomi il cotiello! I coppiele lì, bupiede lì! Bravo, grazie! E' dietro difendono bene, facciamo una fatica da paura. Eh sì, chiaramente come tutte le ultime squadre sono i vicini di quest'anno di fare. E' un po' di indiffenso, a loro mi piace. Dai, facciamo un po' di guardia. Dai ragazzi, stiamo lì, stiamo lì, non torniamo. Dai ragazzi che lo facciamo, dai! Dai ragazzi, dai, tiriamoci su, tiriamoci su, dai. Mi aiutano a te. Dai là, Ale. Ma porca puttana. Ma no, certo che tirerà. Lì non segnerai mai così. Si ma è difficile, poi su questo terreno un po' di più. È un po' di più. Ti devo vedere se giro le nuove. Igor! Igor! Occhio vinaco! Dai nostra raga! Mamma mia. Ero la vigna. Non l'ha fatto più. Non l'ha fatto più. Bravo! Sopra Edo, sopra! Sopra Edo, sopra! Non perdere! Trappa! Trappa! Nooo! Vai, vai! Che buono! Nooo! Forza! Mi sono rotto i coglioni, cazzo! Dai, raga! Bravo, Rama! Dai, dai! Io mi sarei accentrato un po', mi sarei accentrato... Tiriamoci, raga! Dai! Scusate, meglio fare due ore, meglio fare due ore! Paglietta! Edo! Dai, dai, dai! Guarda qua! Dai, raga! Dai, dai! Vai, dai! Ok! Oh! Paglietta! 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 Aglie, aglie! Siamo! Forza Leone! Stai lì! Nooo dai mamma! Per me non se l'aspettava, troppo bella era! Torniamo! Cazzo era solo qua! Va bene, non è stato attaccante! Bravo Rama! Giusto, giusto! Era solo questo qua! Però forse non se l'aspettava, hai ragione tutta! Non se l'aspettava, era tanto le cose, tanto le belle che lei non te le aspetti! Ho messo un attaccante più adesso! Davanti, davanti Ceccio! Questa parte! Era 20 minuti? 20 minuti! Ho messo un altro attaccante, con 3 punti adesso! 20 minuti esatti, 21! Sì, 21! Ho messo 3 punti adesso! Eh, lo so però! Sì, continuiamo a dirlo perché facciamo un attaccante! Dai! Guardiamolo! Dai! Poi due fanno 30 gol in una via! Dai! Dai! Uomo! Guardi, bravi ancora! Guardi! 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 Sì, lì, un bel giro da fuori. Perfetto adesso. Vai. C'è! Puoi gioco. Oh, due da soli in mezzo, eh! Sveglia però! Che dopo è troppo tardi! Solo a noi ce li vedono, cazzo. L'ha insegnato due o tre da noi e così. L'ha insegnato il Codazzi. Codazzi? Sì. Apri le braccia. Codazzi numero dieci. Sono ok. Grazie, dai! Dai raga, continuiamo, dai! Pippo, l'otto, occhio, Pippo! Però dai, ho giocato anche altre cose belle a fare. Dai, su. Bene, bene, dai! Diego! Arriva, arriva, vale, vale! Uh, Manu! Oh, wasp! Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Oh, oh! Allora, allora! Allora, allora! Allora, allora! Ragazzi, dai! Non siamo lì a aspettarli! Oh! Manu! Oh, oh! Ma cosa cazzo qua? Ma cosa cazzo qua? Dai adesso pesca, vai, vai, non ti fermo! Dai! Dai! Oh, oh! Basta! Dai, dai! 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 Sopra Edo, sopra Edo! Sopra Edo, sopra Edo! Mandiamoci raga, chi salta! Viva, viva, viva! Bravo! No, no! Cazzo! No! Non è a fare! Spiegami queste cazzo che fanno! Ma lascialo! Eh beh, ora fanno qualcosa che dobbiamo fare noi! Perché noi abbiamo preso una vagonata di gol così! Adesso non voglio portare sbiga! Quattro! 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 Perché questo era il massimo dell'unitilità! Eh sì! Stava andando indietro? Sì! Però probabilmente l'ha fatto senza volerlo! Sì no, secondo me! Perché era inutile più! Inutile più! Sono messo dopo di tempo! Attaccati raga! Troppo! 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 Guarda! Grande conciutore! Grande conciutore! Grande conciutore! Ciccio bene Ciccio! Sì! 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 Bravo! Ma tutti quanti ne abbiamo presi! Il pallo inutile davanti lì! È inutile! Noi ne prendiamo! Ne la prendiamo! Manca il pareggio! Non è già andato! Non è già andato! Non è già andato! Raga! Non mi girano lo stesso! Mi girano! Lo stesso! Oh ragazzi va vinta cazzo! Viglia! Cattivi cazzo! Io vorrei capire il fallo lì cazzo! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Dai ragazzi! Dai Leone! Dai Leone! Su! Si! 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 Angolo! Angolo! Di quello dai! Qui alla palla! Via la palla! Ambia la palla! Invece! us patri tra leggi Se stagione scorsa, penso. Ma cosa stiamo parlando? Ma stanza è parte, non lo so. Ma di che cosa parliamo? Eh, non c'è più spazio. Il panato non fa le inutili. Arriva, arriva Marco! Alza! Si sta venendo, arriva! Mantiva la forza! Che lo c'entra! Dai, raga! Dai, raga! Dai, Leone! Show! Dai, dai, dai! Oggi, Jacco! Dai! Dai, dai, raga! Dai, raga! Mi Che quando fa fa parte? Ho comprometto! Ho Willie ha vencendo lo che cos auto, uno. Terra, scherzi! Dai! Arriva, arriva, arriva..., arriva! Ahi raga, provi... Abbottivamente diciamo che da un pa게 da quello che si è pots intorno a la voce. Non è finito, adesso lo stiamo facendo in due. Fuori, fuori, fuori. Il nostro diretto. Era già munito? Sì, ma hai dato il nostro diretto. Era già munito. Ah, allora il nostro rosso era già, no? E ce lo perdiamo con la Garibaldino. Ma noi però non possiamo fare un espulso a partita, eh, cazzo. No, non possiamo. Fa' il culo, va. Un espulso a partita, cazzo, dai. Seconda munizione aveva già non detto più. Sì, sì, mi ricordate. Sì, no, ma adesso lo perdiamo con la Garibaldina. Quindi è stato buttato fuori e passiamo le munizioni. Allora non è rosso era. Siamo troppo nervosi, sempre, sempre. Nervosi, cazzo. Entra Federico e poi diamo la macchia. Entra uno e... Sì, è una giornata sola. Come ha fatto che ha preso il giallo, poi il rosso diretto e poi... No, 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 ha preso il giallo. Sì, esatto. Mentre gli dava il giallo è andato sotto l'arbitro, l'ha applaudito e... Sì, però poi si è scusato. Sì. Dai, non vogliamo un cazzo, eh. Beh, ormai l'anno prossimo... Non vogliamo un cazzo, eh. Non potevi finire il campionato. Dai, eh, Nico. Dai, dai. Non è rosso. Non è rosso. Non è giusto, non è giusto. Non è giusto, va bene. Il mio bastido prendeva un gol del genere su un errore che non andava affatto. Le mani. No, abitro. Va abbattendo. Non cedo, però... Forza, se vuoi? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Non c'è nessuno che non si può fare. Il nostro è il nostro attacco. No, non è il nostro attacco. No, non è il nostro attacco. Dai, no. Dai, non c'è nessuno. Dai, no. Dai, non c'è nessuno. Pinto, largissimo. Visto. Quanto fondamentale ha già? Adesso sì. E è sempre qui, ma mi spiace dirlo quando è così, ma è così. D'ingoria, no? No, dicevo che... Si, però non c'è nessuno, hai capito. Però insieme abbiamo fatto un approccio alla partita anche più in tempo, tu non l'hai visto, almeno non l'hai visto, al primo tempo l'approccio, questa partita è piena dell'approccio. Purtroppo, sai quando non riusciamo a fare qualcosa in più nel Stato? No, no, però non siamo riusciti, purtroppo è stato sbagliato l'approccio, forse per questo. Sì, certo, ti spiace a tutti, è chiaro. Sì, certo, ti spiace a tutti. Questa è una tua famiglia, ti spiace a tutti. Dico, Dico, marca! Sì, Dico. Fuori, sali! Tieni, sali, sali! Vai alza, vai alza! L'acqua, vai, vai! Siedo, vedo, vedo! Diego, Diego! Alza, alza! Vico, vico! Vico! Vico, Manu! Vico, Manu! Vico, Manu! Adesso non è più l'ora, è difficile. Luca, Luca, vai a battere tu! No, alza, alza, Mirko! Hai tempo! Mirko, che è indietro! No, no, oggi no. Oggi sono andati in ferie già... ...proverso gli intrati. Un po' di maledezza oggi. No, no, no! Ma cazzo, ma cosa si fa a tenere? Non parla! No, sì, no, meglio di no, asazzo. Mangiamo uno in meno. Cos'è? Alza, alza, alza! 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 bello bello mamma mia mamma mia cazzo comunque anche rogna a saltare a prenderla lunga dentro fuori 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 igor luca stiamo perdendo purtroppo due a uno e siamo uno in meno che siete buttati fuori gli acqui insomma le munizioni lato poi la macchina e al chico macchina e adesso non so non era qua forse non so dove sei andato ma io ho chiesto mi ha chiamato prima dai tempo arbitro Calgo dai, dai calgo, daggliela dai la macchina dai dai alza alza un po', alza un po' dai Diego, riprega dai 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 show, show dai fispo dai dai grazie, grazie mi dispiace quando c'è una partita davanti bravo 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 Ego mi dispiace vediamo poco Diego lascia alza qua che non ce la fa più vai lì a recuperare dai dai sopra Edo sopra in attacco male vai 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 quello che per quello sta vincendo non è più non perderla bello bello dai dai show, show, show show, dai Pippo dai dentro dietro 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 dai dico dai dai hai tempo arbitro 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 dai mi dispiace mi dispiace mi dispiace che dobbiamo vincere eh comunque non siamo entrati bene bene più non vuol dire che dai raga proviamoci dai anche Iago oggi no hai fatto il gol non mi interessa voglio giocare bene tutte le partite rimanendo comunque vai da questo voglio giocare bene guarda dai ma anche i calci di punizione cazzo non le becca mai uno anche quando eravamo lì a Leona che ci hanno fatto due gol su calci di punizione che le guarda sempre o non è capace di mettere la barriera non saprei dirti 4-5 così e poi anche le 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 punizioni si queste punizioni qua almeno 4-5 i gol li abbiamo presi così 4-5 se non sei massimo e sono punti adesso non so però si comunque più o meno si 4-5 poi oggi anche in attacco noi riuscivamo a fare no si che prima fa rispetto come me fino a quello si però vieni Diego dai leone su tutti andiamo mazi gira 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 vieni 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 SUV vieni 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 La guardia... Fala tu! Fala tu! Tieni Marco! Tieni Marco! Tieni Marco! Tieni Marco! Gioco! Non va bene! Un gioco! Sto in due... Ehi, arbitro mio! Guarda che non va a vincere una passata! Una passata... Sì, guarda, sei carino però... Dai dai, veloci raga! Dai, veloci! La reazione è stata bella all'inizio... Dentro Ciccio! Però abbiamo perso un po' la... Sì, non doveva uscire però sono sempre convinto... La macchina... Mi sembra delle cose e non va bene... Sì, sul P.O.P. Perfavoro. Sfai un pochettino di attacco con lo d'effettivo... Vai, vai, vai! Che suono? Eccolo lì non vanno bene... Vanno a sussare... Dai! Faccia questa parte, vai! Inizioni! Lo facciamo di raro? Vieni, vieni, vieni! Ehi, continua! Vieni, stai male. Dai, dai, pressa, pressa, pressa! Non mi incazza che tanto ha quel pareggio. Vai raga! Ha dato il recupero? Cinque. Diciamo che se facessimo un gol e chiudessimo un pareggio sarebbe meglio. Ma come è morale della squadra? È vero che non fai molto un pareggio, però... Palloni! Ehi! Ehi! Non è morale! Si, Marco! Aspetta, aspetta, aspetta! Si, Marco, si, Marco! Stanno in dieci di qui, cioè sono da molti difficili. Dai, balla, balla! Marco, dai, non molliamo il cazzo, Marco! Dai, Leone! Gli fai, fai, fai! Ehi! Cinque minuti del Kupan, hai già passato a punto. Tienlo lì, tutto lì! Tranquillo! bravo Manu le mani dai dai su, su, su sopra, sopra arbitro, distanza ragazzi vieni su tra i topo dai, dove? il bambino lì, bravo, via 28 punti abbiamo andato a vedere con la penultima, abbiamo fatto un bel partitone con la terza e le quarte e ci andiamo a reinare abbiamo andato a vedere la classifica di quattro anni fa e ci avevano giocato più da ora non siamo andati proprio purtroppo perché eravamo a distanza di 10 punti e dovevamo finito e avevamo 50 punti e quindi non eravamo cosa hai fatto questo? ci bastava qualche punto in più pareggio però un punto in più bastava pareggio però cosa ha fatto? ok, se non ho 10 punti non va oh, non vogliamo qua, eh, scherzo faceva un pareggio in più questo anno è un po' come 30 siamo arrivati sesto senza fallo senza fallo senza fallo senza fallo che è mezzo tra non è ma nooo eh sì, è un fallo non è un fallo non siamo qua andiamo dentro dentro ma tanto cazzo di testa la mia mamma ha fatto mezzo gol sul portiere palla di merda sul portiere viene levato il cappellino con il portiere Diego, girati Diego Mirko vieni, vieni qua aspetta vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Nol 사' non fai tu qualcosa in più che ha fatto se vincere bravo, bravo, vai adesso vieni qua んだろ vivo Bravo, con tanta roba, cazzo. È bravo, sì. Diego, stai qua! Forza, Leone! Fuori, fuori! Sopra, Edo, sopra! Vai Diego! Vai Diego! Vai Diego! E' un fiegato di barca. E' un fiegato di barca. E' un fiegato di barca. Sì! Ah, a me questo santo... Siamo sfruttando. E' un fiegato di barca! E' un fiegato di barca! Tra uno giusto e poi farlo un po'. Bravo Diego! E' dato! E' devo andare a regalare! Buon altro partito! Iscrivetevi! Guardi adesso, stai a creare un po' di garza, non si vede l'abbiato, non siamo mai entrati in partita di te. Un po' di garza così brutto è vero, è vero, è vero, è vero. Diego! Allora serve, stai a tornare. L'autorete Diego! Ma la fine del campionato si trova giù in questo, ma quella è un po' molla tanto, se non arrivi da nessuna parte. Ah, faccio, faccio! Eh, ragazzi, vedi, ah, fino al luce! Dai, dai, Marzi, dai, dai, dai! Comunque non ha esatto. Ma no, infatti l'ha detto questo. Beh, è tempo, sono già sei minuti. Tu rischi alle brazze, beh. Menta, veramente, cazzo!